Amichevole di fine anno per l'Avellino di Giovanni Buccaro che in un partenio lombardi semideserto ad eccezione dei tifosi della Vallatese ha affrontato e travolto la squadra dell'Arte Irpinia militante in prima categoria 9 a 0 il risultato finale con Nicola Ciotola in grande spolvero autore di una tripletta Mister Buccaro e il suo secondo Cinelli hanno fatto ruotare tutti i calciatori che avevano a disposizione erano infatti assenti Nando Sforzini, Alessio Tribuzzi e Tommaso Carbonelli per tutta la gara l'Avellino è stato schierato con il 4-3-3 nel quale si sono alternati in avanti Devena Ciotola, Tontè e Pisano l'unico ad aver giocare per l'intera durata della gara è stato il pendolino di Serino Fabiano Parisi che come al solito è risultato essere in grande forma e sempre concentrato buona anche la prova di Franco D'Adalt che da esterno alto riesce sempre ad imprimere spinta e velocità alla manovra si è rivisto nel primo tempo il capitano Santiago Morero, l'argentino affiancato da Dondoni ha disputato 45 minuti intensi e di buona qualità segnali di crescita arrivano anche da Eddie Omorria il terzino destro ha mostrato alcuni miglioramenti nella fase difensiva ora bisogna lasciarsi alle spalle un anno orribile per i colori bianco-verdi salvare il salvabile e dal 2 gennaio, data in cui i lupi si ritroveranno al partenio Lombardi concentrarsi per la gara interna contro il Ladispoli